ecco qua siamo in tutti in fila nel calessino due per due abbiamo fatto un'escursione stiamo facendo un'escursione in mezzo ai templi di pagano questo qua il nostro fantino cocchiere caterina è qua l'assistente e di dietro staccato di staccato perché ci avete fregato in curva ma noi siamo un po più furbetti ecco qua che sta spaccando la legna adesso vediamo un po o no cosa sta facendo ok chiudiamo 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 chiudiamo